Quando Maria Grazia veniva all'India, stavamo parlando della nostra passione comunale per la città e della importanza di poter preservare le città e poter trasferirli a nostre generazioni future per l'innovazione. Con Carisma abbiamo realizzato dei bellissimi decami della collezione. In particolar modo sono affezionata a questo ricamo fatto di tessuto. Abbiamo anche avuto il piacere di collaborare con due artisti indiani e con la scuola di ricamo si è realizzato tutto il lavoro del setup. Io sono Maria Licata, una storica dell'arte. Insieme a Paolo Golini abbiamo seguito e curato il progetto per questo setup. Christian Dior, prima di diventare un grande couturier, è stato anche un gallerista. Chiaramente questa lega è stata sposata da Maria Grazia Chiuri e infatti in ogni set c'è sempre la presenza di artisti. Per la prima volta abbiamo invece la presenza di una coppia, Madhvi e Manu Parekh. Questo set vuole rappresentare la meravigliosa fusione dell'energia maschile e femminile che danno proprio insieme, danno vita alla creatività al mondo. Questa è una persona molto folk-like e naiva e le linee sono molto rive, hanno un'energia che è quasi primitiva. Il suo lavoro è abstrato e moderne e è molto interessante vedere che queste cose vengano insieme in un'amore collettiva. Siamo partiti dalla selezione di una serie di loro opere pittoriche per creare una narrazione alternando le opere di Madhvi e Manu Parekh in questo percorso che ricorda anche per l'orizzontalarità quasi una pellicola cinematografica che vuole come un nastro che si scioglie all'interno di questo spazio. Questa si chiama Evening in Banaras di Manu Parekh. Possiamo vedere come una forma di celebrazione. Gli alberi sono quasi tipo, come si dice, fireworks. Manu Parekh è uno dei mosti moderni e inventive artisti e non è impossibile di perdere l'intuotività. Madhvi's paintings often reflect la femmile energie di indian goddesses e per l'artizzazione, molti di qualità come da Calcutta, hanno cresciuto guardare e capire la Durga e Kali. È bello per l'artizzazione per l'artizzazione di ricordare questa energie con trezi. È bellissima. No! No, guarda questo! Da lontano non si vedeva! Questo è un focus di giù. Questo è il famoso punto d'appeto? Sì. Ma guarda qui questo! Questo è il terzo occhio, però ancora latente. Ah, che noi dobbiamo sviluppare. Ognuna di queste opere racconta una storia molto più complessa di quella che appare. Tant'è vero che nella porta d'entrata dove escono le modelle abbiamo alla base l'immagine di Kali la dea della trasformazione e sopra abbiamo un'opera di Manu Parekh che parla della forza delle vibrazioni sonore perché anche il suono come la vista fa parte degli organi attraverso i quali noi possiamo modificare il nostro stato d'animo e il nostro modo di pensare per cui ci sono tanti livelli di lettura ed è indubbiamente un'opera estremamente complessa. Grazie a tutti!